Contenta? No, non sono contenta. Ma l'auto non è lontana, solo che non la troveremo mai, Alcuneo. Ne sei assolutamente certa. Sì. Mi dispiace, Alcuneo, forse riusciremo a restituire il tuo registratore domani stesso. Dobbiamo, dobbiamo! Restituiremo intanto domani, prima della scadenza. Devo restituire quella maledetta celebreza. Restituiremo tutto domani. Io devo lavorare domani, domani devo essere a lavoro alle nove. Sì, sì, lo so. Bene, andiamo a dormire. Attrezziamoci per la notte, ok? Sì, sì, voglio registrare dall'interno. Sembra la stessa cosa dell'altra notte, qualsiasi cosa fosse. Dove sono i miei stivali? Cazzo che ripeto. Chi c'è? Dove sono i miei stivali? Chi c'è? Oh, cazzo. Era stato un cerco. Potrebbe anche essere. È solo un cerco. Ma non credo sia un cerco, sembra proprio lo stesso rumore della notte scorsa. È dappertutto. Sicuramente era un cerco. Sì, era un cerco. Io non credo. Non è lo stesso rumore dell'altra notte. Sì, è un cerco. Sì, è un cerco. Sì, è un cerco. Sì, è un cerco. Sì. Sì. Hai detto qualcosa? Sì. Ascolta, accidenti. Ok. Registra lo suonare. Ok. Fai silenzio. Sì. E' acceso. Ok. Cristo Santo. E' quello che diavolo... Cazzo! Certo non lo spaventi con i tuoi uri. Sembrano dei passi. Eh sì, cazzo. È una persona. Non vedo nulla con la telecamera. Registriamo solo sul davvero, va bene? Però ora sto qui fuori insieme a me. Sì. Ci sono, ci sono. Che ore sono? Ci stiamo avvicinando all'altra testa. Michi, non vedo nulla con la telecamera. Registriamo solo sul davvero, va bene? Ti prego, dimmi che sono le cinque giù di lì. Le tre. Cazzo! Merda, tutto questo non ha senso. No. Mi dispiace, ma è che avremmo già dovuto essere fuori di qui. Questo non ha nulla a che vedere con il motivo per cui siamo venuti qui. Quanto è vero il Dio. Questa è una grossa stronza. Mi sono appena svegliata, proprio a due secondi parte. E ho trovato dei mochiuti di pietra qui fuori della telecamera. Questa è una grossa. Questa è una grossa.